Ciao, siamo Vale e Orri. Oggi vi faccio la pasta frolla, a modo mio. Ingredienti per la pasta frolla. 300 g di farina doppio zero, 3 uova, 2 rossi e un intero, 125 di zucchero, 125 di burro, una punta di lievito per dolci e una punta di sale. Inizio la preparazione della pasta frolla. Metto lo zucchero e il burro. A temperatura ambiente va lavorato il burro. Moriamo tutto a mano. Aggiungo un po' di farina e l'uovo intero. Aggiungiamo ancora un pochino di farina e il rosso dell'uovo. Mettiamo ancora un po' di farina e l'ultimo uovo, rosso. Aggiungo il pizzico di sale e il pizzico di lievito. E aggiungiamo l'ultima farina e la lavoro un attimino. Adesso l'impasto è omogeneo. L'avvolgo in una pellicola, un pezzo di pellicola, e lo metto in frigo, non meno di mezz'ora. È passata mezz'ora. L'ho tolta dal frigo. Questa è la pasta frolla fatta a modo mio. Buon appetito! Vi è piaciuta la pasta frolla? Se vi è piaciuta fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima! Ciao!